A carnevale ogni scherzo vale, a maggior ragione nel giovedì grasso che dovrebbe profumare di frittelle e coriandoli. Già, perché suona proprio come una beffa il fatto che alle 5 e mezza di giovedì 11 febbraio arrivi la comunicazione ufficiale ai commercianti e alla stampa sulla chiusura del Ponte Vecchio. Peccato che non ci sia niente da scherzare perché a 24 ore dalla prevista riapertura del Monumento Nazionale l'amministrazione di Elena Pavan affida una nota di quattro righe e la notizia che nessuno voleva sentire in questo periodo. Il Ponte aprirà il 19 febbraio, una settimana dopo rispetto a quanto annunciato nel crono programma diramato dal Municipio all'inizio del rush finale di lavori di restauro. E quindi? Quindi niente San Valentino, niente domenica di carnevale, niente martedì grasso per le attività che vivono sul Ponte e del Ponte. Niente collegamento a piedi per il centro storico per un'altra settimana per i residenti. Niente turisti, niente visitatori sul lato angarano del Ponte Vecchio alla faccia del carnevale, della zona gialla, della voglia di tornare alla vita. E alla faccia del crono programma naturalmente. La novità, che pur era nell'aria per chi bazzica sulle due sponde del Brenta dalle parti del Ponte Vecchio non ha fatto per niente piacere agli esercenti, ai commercianti e ai residenti. Per tutti loro e per chiunque abbia a cuore il destino del ponte la quaresima è iniziata già da un pezzo e l'ennesimo venerdì di magro è alle porte.